Ehi, chi ha finito di costruire la mia fattoria? Daisy, sei stato tu? No Chi ha finito di costruire il mio castello? Sei stata tu, Boo Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme E un Ibis Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme E una tartaruga Guardate Ma è la ladra di Pooh Eccellente, hanno risolto il puzzle delle forme Wow Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Katie la cangura, finalmente ti ho trovata, ho un pacco per te Wow Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Cameron il coccodrillo, finalmente ti ho trovato, ho un pacco per te